Musica 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 Come no? Questo è il tuo Allora, eccoci qua per l'appuntamento con Studio Telequattro Come vedete è accanto a me Alessandro Mizzi Buonasera Buonaventura, Miela Insomma è tutto Per parlare di On Off Prosa Curiosa Prosa Curiosa È la vostra stagione insomma No, è un pezzo della nostra stagione Che si inserisce in mezzo alle stagioni Parte appunto da Fine gennaio e va avanti fino a maggio È un appuntamento che Si svolge dei titoli che vengono presentati Una volta ogni due settimane E stanno in scena due giorni Nel caso degli spettacoli ospiti E tre giorni nel caso degli spettacoli di nostra produzione Che sono ben due La Prosa Curiosa È quello che non si riesce a vedere Nei teatri Dove fanno le bellissime programmazioni Ricche, con tanti titoli Però mancano certe cose Mancano certe cose che dopo vengono anche In qualche modo riconosciute Perché abbiamo uno spettacolo Il 14 e 15 di febbraio Con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari Amneto Take Away Che è questo di cui vediamo l'immagine Gianfranco Berardi Che è un attore che ha lavorato sempre in battaglia Diciamo Contro le montagne Contro il monito Avento Si è fatto veramente Ha fatto una gran fatica Nel corso dei suoi anni Ha vinto il primo UB Come miglior attore Qualche giorno fa a Milano E quindi arrivano i riconoscimenti Anche per quelli che non sono mainstream In qualche modo Quelli che stanno Che fanno gli spettacoli Che fanno i circuiti alternativi Che non partecipano ai grandi scambi Dei teatri stabili Esiste anche un altro tipo di programmazione Noi cerchiamo di intercettare Intercettando anche perché è difficile portare la gente a teatro Se non tramite una fidelizzazione L'abbonamento Noi abbiamo un abbonamento Un piccolo abbonamento Che dopo se mi permetterai Farò anche uno spottino Su un abbonamento molto conveniente E molto attraente E quindi noi proponiamo degli spettacoli Che difficilmente E che riproponiamo anche gli artisti Nel senso che Visto che non sono personaggi Ho capito Nella televisione Cerchiamo di familiarizzare il pubblico Con delle compagnie Che poi c'è anche un'altra È un'altra cosa da sottolineare Che qualcuno potrebbe anche stupidamente pensare Che si tratta di spettacoli Che ne so Difficili O diciamo Utilizziamo Anche un po' strani Eccetera Alla fine non è Non è niente vero Insomma No perché non sono strani Non sono nemmeno difficili Anzi io personalmente Poi sono contrario Agli spettacoli difficili A me piacciono le cose belle Di qualità Ma allo stesso tempo popolari Le cose che possono arrivare a tutti E sono spettacoli Assolutamente necessari Più che difficili Dove vengono trattati appunto Delle argomenti C'è un filone che li accomuna Perché tutti questi spettacoli Che poi elencheremo Sono degli spettacoli Che passano E che cambiano marcia Dal tragico al comico Al poetico E quindi insomma Non è Non sono definibili Però sono di ottima qualità Anche in un altro spettacolo Che si svolgerà ad aprile Coma Quando fuori piove Con Bartleonardi Bartleonardi è un famoso attore comico milanese C'è anche un'altra attrice Che è stata candidata Al premio Ubu quest'anno Paola Tintinelli Quindi persone che alla fine Insomma ci sono Cioè li viene riconosciuta una qualità Li viene riconosciuto il lavoro E la dedizione del teatro Di tutti questi anni Gente della nostra età Sì sì Allora c'è da dire E ormai C'è da dire Intanto Noi avremo ospite Credo dopo domani Sì il giorno 17 Sarà con noi Francesco Godina Perché riprende una splendida giornata Da clandestino Per due giorni Sì sono due repliche Che abbiamo aggiunto Dopo il successo di dicembre E una cosa che è andata molto bene Una piccola produzione Targata mia alla Buonaventura E mi sembra insomma Un'operazione riuscita È stata accolta benissimo dal pubblico E quindi c'erano delle richieste Abbiamo trovato i varchi Per inserire altre due repliche E poi riprendiamo a fine di Sempre sul tema A fine di gennaio A cavallo tra gennaio e febbraio Dal 31 al 2 febbraio Uno spettacolo che mi vede Partecipe In qualche modo Nella qualità d'attore Assieme a Mohamed Ba È una ripresa Che facciamo Dall'anno precedente Nel frattempo Abbiamo fatto qualche piazza Abbiamo fatto Milano Abbiamo fatto Firenze Abbiamo fatto la Val di Susa Abbiamo fatto altre piazze Abbiamo testato lo spettacolo Con delle piccole modifiche Ripresentiamo questo Come diventare africani In una notte Che è uno spettacolo Che è una metafora Una cosa molto leggera È un gioco Diciamo Non è niente di Non è il teatro civile Che parla Ma dei migranti Anzi Insomma Sfata un po' Nel senso che Parla di una convivenza forzata Di un italiano E un senegalese Un congolese E dopo viene fuori Alla fine Insomma che le due persone Sono perfettamente in linea Dopo una grandissima diffidenza Dell'inizio E poi si scopre Che l'italiano È più messo È più nei guai Dell'africano E l'africano propone All'italiano Di emigrare in Africa Insomma questo è un gioco Insomma molto divertente E per andare in Africa Bisogna fare delle cose Bisogna adeguarsi Bisogna Innanzitutto bisogna suonare L'Ijembe E quindi insomma C'è una lezione live Amizzi di Jembe Da parte di Moan Denba Che è un attore senegalese Che vive in Italia Da molti anni Che parla perfettamente L'italiano È un attore professionista E molto bravo Con i quali ci troviamo In scena molto bene Poi dopo Gianfranco Berardi Arriverà anche C'è un grande ritorno Perché lo considero Un grande ritorno Un amico del teatro E in ottima forma Quest'estate L'abbiamo visto Ospite del Pupkin In una serata Al Castello di San Giusto Ma anche All'Unatico Festival In un suo recital Ritorna Paolo Rossi Al Teatro Miela Dopo qualche anno E lui sta anticipando Un progetto televisivo Che ha sui suoi grandi maestri Che sappiamo un po' Possono essere Gli Annacci Gaber Fo Carlo Cecchi E altri Anticipa questa tradizione E fa delle serate In alcune piazze Dove Sa insomma Che c'è La possibilità Insomma Di sperimentare Testa Questa cosa qua Per dopo fare un programma Televisivo E quindi parlerà Sicuramente Lo anticipo Insomma È dedicato specialmente A Enzo Iannacci Ah ok Questa cosa qui Quindi sarà una cosa musicale Perché Iannacci è nato Lo stesso giorno mio Il 3 giugno Di qualche anno prima Anche lui è gemelli 3 giugno C'è una tradizione Di musicisti nati Il 3 giugno Perché c'è anche Cole Porter Cole Porter E Tony Curtis Tony Curtis E Susi 4 Ti ricordi Susi 4 Come no Susi 4 era nel jukebox Negli anni 70 Insomma Solo tu ricordi Io e E poi Mi ricordate Susi 4 Nessuno Nessuno Comunque questi sono Quelli nati Tu sei nato invece Io sono nato il 18 dicembre Come Kate Richard E Brad Pitt Quindi E come Alessandro Benvenuti Anche Alessandro Benvenuti? No ma un amico mio Non Benvenuti Ah ok Un amico mio che sta Non l'attore toscano Non l'attore toscano Non l'attore toscano Ma insomma Vabbè E Dicevamo sì appunto Di Di Paolo Rossi Il legame col Pupkin Si ripresenta anche Con altre presenze No? Il legame col Pupkin Si ripresenta Con altre presenze Ha voglia di riconnettersi con noi Quest'estate Lo ha dimostrato Vorrebbe coinvolgerci Insomma su dei progetti Poi noi stiamo lavorando molto Con un altro milanese Che è Massimo Navone Che è un regista di Milano Già direttore della scuola civica Paolo Grassi Per moltissimi anni E quindi Tutta una serie di generazioni Di attori Che noi conosciamo E con i quali ci connettiamo E con i quali collaboriamo In qualche modo scopriamo Che tutti sono stati allievi Di Massimo Navone Massimo Navone E riconosciuto come il maestro La Robin Williams Dell'attimo fuggente Quello che ha Che ha seminato Che ha seminato bene E ha raccolto Ancora meglio E quindi tutti hanno Una grande stima Per Massimo Navone E un regista Belista E quindi C'ha una grande passione Per il mare Con il quale Abbiamo un altro progetto Nuovo Di produzione Che con Con la compagnia del Pupkin Ma non è Pupkin Faremo Adriatico Blues Che è un progetto Che stiamo scrivendo Che stiamo allestendo Che stiamo concependo In questo periodo Inizieremo le prove Il 5 marzo E parla di una suggestione Di una suggestione Questo Adriatico Blues Sarà una locanda Un approdo Non ben collocato Però all'interno Del mare Adriatico Può essere in Puglia Come a Cerso Come a Trieste A Grado A Fiume O a Dubrovnik È un posto Dove arrivano Delle persone A raccontare Delle storie A raccontare Delle storie Delle esperienze Che possono essere Anche quelle di migrazione Ma non necessariamente Anche i pirati Dell'Adriatico Sappiamo che c'è anche Ci sono storie Che narrano Di queste presenze Insomma C'è anche un libro Di Giacomo Scotti Insomma Il Fiumano Napoletano Insomma C'è chi ha scritto di questo Uno dei libri Al quale ci ispireremo Sicuramente Ma Massimo Navone Sta selezionando Tutta una serie Di miti E leggende E storie reali Che riguardano L'Adriatico È uno spettacolo Che noi vorremmo In qualche modo Portare L'ambizione È quella di portarlo Nei porti Dell'Adriatico E quindi Non avere Una circuitazione Teatrale Tradizionale Ma vedere Se riusciamo A portarlo Dall'altra parte Che può essere Dall'Istria A Fiume O molto più in giù Ma anche Dalla Puglia Insomma E sarà un format Che ci permetterà Di avere una guest E di avere degli avventori ospiti E quindi Ah ho capito In base alla piazza Dove ci troveremo Avremo la possibilità Di invitare Di coinvolgere Qualche amico In marzo invece C'è uno spettacolo Che ha un titolo Che Vabbè Poi Sono io che ho L'esprima al tournè Mi pare di aver capito Trovata una sega Che racconto Su Livorno Modigliani E lo scherzo Del secolo Dell'estate 1984 E ricostruisce Lo scherzo Delle tre teste Finte Di Modigliani Ricostruisce questo In modo Comico Didattico Antonello Taurino È un attore Che abbiamo già visto Qui a Trieste Con La scuola Non serve a niente Che Era uno spettacolo Appunto Somma Sulla scuola Sulla Appunto Sulla nuova scuola Sulla Legge Insomma Varata Qualche anno fa In questo caso Racconterà questa storia Con l'aiuto di un collega Ed è uno spettacolo Molto ironico Molto ironico Ma dove Impariamo Tante cose Scopriamo anche Attraverso Questo Questo pretesto Dello scherzo Della cosa Del ritrovamento falso Fasullo Che c'è stato In quegli anni Scopriremo anche Molte facce di Modigliani Che non conosciamo Però Una lezione di storia dell'arte Se vuoi Questo è uno di quelle cose Che mi fa capire Sempre di più Che Negli ultimi Negli ultimi anni Il teatro Sta Non prendendo il posto Del cinema Però Ci sono degli spunti Voglio dire Una vicenda del genere Si sarebbe potuta Tranquillamente Raccontare al cinema Probabilmente Se age scarpelli Monicelli Uno di loro Se avessero Non so Vent'anni di meno Eccetera Il fatto che Non si sia raccontata Il cinema Per conto mio Come Per esempio Il cinema Non abbia raccontato Lo scandalo Parmalat Non abbia raccontato Parecchie cose Come dire In questo caso Si tratta di uno scherzo Nell'altro caso Si tratta di un dramma Però Significa che Qualche cosa Non è più in grado Di cogliere Di ciò che offre La realtà Da dove invece Il teatro E' molto più E' molto più E' molto più rapido E' molto più Beh sai Per fare un film Insomma ci vogliono Anche molte più risorse Un spettacolo Uno può anche In qualche modo Autoprodurlo Come in questo caso E dopo vedere Testare E dopo successivamente Trovare anche una produzione Dopo averlo già fatto Averlo già concepito Per fare un film E' un'impresa Io invidio Alcuni amici Registi Giovani Insomma O un po' meno giovani Perché Noi abbiamo un'idea Di fare un nuovo spettacolo Ce l'abbiamo un anno Ci dura un anno Nella testa Poi cerchiamo Di realizzarla Per fare il film Bisogna stare Sul pezzo Un termine che non mi piace Però insomma Fa capire Di stare sul pezzo Cinque sei anni Su quel progetto Perché la cosa fondamentale È trovare le risorse E quindi è giusto Però tu hai parlato Anche di sceneggiatori Sì No no Volevo dire Era un ragionamento Molto Molto Generale Insomma Però noto che c'è Questa Mi pare che Adesso per esempio Si sta facendo Un film Sugli ultimi anni Di Craxi Ad Amamet E il teatro C'era arrivato Magari forse anche La trasposizione Con Haber Quello di Vitaliano Trevisan Mi pare di sì Mi pare di sì E c'era arrivato Cinque anni fa Con Haber Mi pare un po' Ma però Può essere anche Che io sono molto esigente Lo spettacolo Che è la regia Della Ruth Schiammà Il prodotto Da Franco Parenti Esatto E cosa invece Figli di Puttini Beh figli di Puttini Chi sono i figli di Puttini I ragazzi che fanno questo spettacolo Si chiamano Generazione Disagio In realtà sono dei bravissimi attori Ah del teatro della Tosse Sono prodotti Ah prodotti Ma sono tutti formati Alla famosa scuola civica Paolo Grassi Appunto Allievi sempre di Massimo Lavone Che raccontano Di tre angeli Che dovendo appunto Custodire e proteggere gli umani Assorbono i difetti E le angosce degli umani Quindi insomma C'è sì Dopo C'è un po' questa cosa qua Insomma Dopo a un certo punto Insomma Vengono contaminati Dalle nostre angosce Dalle nostre paure Dalle nostre nevrosi E quindi si staccano E decidono in qualche modo Di lasciar perdere Insomma Di 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 non proteggere più Alcune persone Insomma Che possono essere nocive Insomma Ma in chiave molto comica Insomma E questo è a maggio Questo è a maggio Sì Ci sarà un salto Temporale Della quindicina Perché Esisterà Per chi non lo sapesse Un ponte Lunghissimo Perché ci sarà Pasqua Ci sarà 25 Pupkin E ti voglio dire una cosa Se mi permetti Che quest'anno Pupkin Con più di 18 anni Quindi diventa maggiore Sì Diventa maggiore È una responsabilità Noi siamo contenti Perché Perché anche ieri sera O anche Nelle serate precedenti Da quando abbiamo ripreso Questa stagione Abbiamo avuto un ritorno Non c'è mai mancato Il pubblico Però Abbiamo un ritorno Di pubblico Come 4 o 5 anni fa Dove A volte ci tocca Anche mandare via Le persone Perché forse Le persone Hanno voglia Di capire Di confrontarsi Di aggregarsi Di uscire di più E il Pupkin Non è uno spettacolo Dove Ognuno Si mette lì Guarda uno spettacolo Dopo ci si saluta È anche un modo Per incontrarsi Crea un'aggregazione E poi vogliono anche Sentire In base a dei fatti Che succedono Che inevitabilmente Noi dobbiamo commentare Ci sono delle persone Che dicono Andiamo a sentire I Pupkin Cosa diranno Su questo fatto Mi pare che In questi ultimi mesi Avete avuto Parecchie collaborazioni Per i testi Eccetera Sì Infatti abbiamo deciso Di dare una quota Della SIAE A altre più Immagino Immagino Perché Poi sarebbe bello Anche magari Quando sarebbe Proprio Il diciottesimo C'è una Il diciottesimo È febbraio Il giorno Adesso non te lo so dire Ma è prossimissimo È febbraio Il prossimo mese Si potrebbe anche Analizzarlo Da un punto di vista Anche storicizzare La cosa Io sono invecchiato Guardandomi Nello specchio Del cammino del Pupkin Ieri me ne sono reso conto Poi voi avete fatto Un danno Del quale ti volevo Parlare Tra un po' Insomma Voi avete Mandato in onda Prodotto Questo spettacolo Televisivo Di Maxino E di Flavio Furian Che è con noi Da moltissimi anni Adesso non si può Nemmeno più Considerarlo Un ospite E l'altro giorno Mi ferma La vicina di casa E mi dice La sa Si può parlare Anche in vernacolo No? Una cosa La sa Mi Ho capito Appena adesso Chi la si Lei Perché Chi su Mi E lei La si Un attore L'ha fatto Questo L'ha fatto Quell'altro Il cinema Il teatro Le cose Così E poi l'havo Vista Anche fotografare Con la Boba De Borgo E lì Ho detto Vedi 20 anni Per combinare qualcosa E fare la foto Con la Boba De Borgo E questa è una vostra responsabilità Questa è colpa nostra O quantomeno siete Corresponsabili Abbiamo ancora Un minuto C'era quello spot Che volevi Che volevi fare Si Quello spot Si tratta È una cosa Molto semplice I prezzi Degli spettacoli Del teatro Miela In generale Ma soprattutto Questi della prova Sono assolutamente Popolari Abbastanza Accessibili A tutti Poi noi Non lasciamo fuori Sicuramente Delle persone Che magari Non hanno la possibilità Con Però Chi volesse In qualche modo Comprare un pacchettino Che ci aiuterebbe A Dovete partecipare In qualche modo E quindi Con 48 euro Si possono acquistare Ben 6 spettacoli Quindi si paga 8 euro Come al cinema Per andare a vedere Degli attori Anche premi Ubu Che in qualche modo Sono lì Dal vivo In carne ed ossa Che ti Che lavorano E faticano E poi non c'è il rischio Di vedere robe come Aquaman Grazie Come Aquaman Come Aquaman Siamo persi Tu sai Sì Lui ogni tanto C'è Umberto Anche sui social Sempre lì A poche film Qualche film Grazie Se volete Per il comprenato Del pubkin Qualcosa Ci penso E poi Ci sentiamo Perché siamo sopravvissuti Ho pensato A 8 governi diversi E te vedi Te vuol non festeggiare Da D'Alema Fino a A Conte No no Perché bisogna festeggiare Dal 2001 Grazie ad Alessandro Mizzi Ci vediamo domani alle 18 Grazie a tutti